Io chiedo un'azione di responsabilità da parte dell'amministratore, nel senso che secondo me lui, come tanta gente che mi sta dando una mano e sta mettendo la faccia, deve fare quello che è bene per la Lega e bene per la città, dare un senso di trasparenza e quindi fare in questo momento un passo indietro. Io mi auguro che questa cosa avvenga nelle prossime ore, non dovesse avvenire, chiaramente mi consulterò con tutte le persone che si occupano di questa campagna elettorale, perché è chiaro che ho chiesto l'impegno a più di 200 persone che sono candidate tra circoscrizione e consiglio comunale e quindi la decisione deve essere presa di comune accordo. La mia input e la mia sensibilità mi fa dire che qualcuno un passo indietro lo deve fare, è chiaro che tutti confidiamo in un senso forte di responsabilità.